Allora, io sono sconcertata, no, 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 non ho parole. Allora, questa è la mia piccola casa, io sono appena arrivata, ho la borsa ancora a tracolla, ho preso una forbice, sono dal mio forno al microonde, potete notare 22-23, ok, sono appena arrivata a casa, non ho fatto niente, guardate solo il disastro che ho combinato. A farvi vedere, allora, vi vorrei far vedere il disastro che ho combinato, questa è la mia libreria, i miei tentativi di inizio raccolta libri antichi, vedete un po'. Allora, su questo tavolo ci sono ancora le buste della spesa e poi c'è questa meraviglia, Hoffman, racconti fantastici. Hoffman, racconti fantastici, l'ombra del vento di Carlo Ruiz Zafoni e venne chiamata due cuori Marlowe Morton. Jonas, Jonas, io sto per piangere, l'analfabete che sapeva contare, il cioccolà di John Harris. Allora, io sappiate, scusatemi, ho la borsa ancora qui, ho preso, ho aperto i libri, ho buttato le buste sul tavolo e ho aperto i pacchi. Vale, vale i libri, mi ha fatto questa sorpresa, lei mi voleva fare avere un attacco di cuore. Allora, questi sono gli oggetti più intensi che potessero arrivare al mio cuore, perché dietro di questi libri c'è un'anima infinita. Lei sa che avermi mandato questi libri equivale non solo alla bellezza di quello che li rappresentano, ma tutta la sua anima di cui ho veramente assaporato la bellezza che mi sta dando un conforto immenso. Vale, grazie, grazie, grazie mille. E tu mi volevi fare avere un infarto. No, eh, vabbè, io sono arrivato e ho visto questi pacchetti per terra, cioè non sapevo dove... Grazie, grazie, mi riprendo e al prossimo video io questo lo devo fare. Grazie Vale, grazie.